Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora ci sono talvolta delle storie che apparentemente sembrano così diverse l'una dall'altra che possiamo dire ma cosa c'entra l'episodio ad esempio della bidella napoletana con il presunto arresto di Matteo Messina Denaro. Poi invece andando a vederne i risvolti scopriamo che è un po' lo spaccato del nostro paese, di come noi siamo in fondo noi italiani. Allora per quelli che magari non fossero al corrente, non avessero appreso di questa storia, ne hanno parlato tantissimi giornali, questa donna napoletana che aveva deciso tutti i giorni di partire da Napoli per venire a Milano a fare la bidella. Prendeva il frecciarossa alle 5 di mattina e tornava con il frecciarossa delle ore 18 a casa e aveva spiegato ai giornalisti che facendosi i conti questa era una scelta conveniente dal punto di vista economico. E tutti voglio dire a lodarne le iniziative e soprattutto tanti a sottolineare anche il fatto che rispetto a quelli che non accettano il lavoro perché magari a 5 chilometri da casa e preferiscono mantenere il reddito di cittadinanza era un gran bel esempio. Peccato che poi quando uno gira la medaglia la storia è un pochettino diversa e la storia mette in luce quella che non so come definire è un po' la furbizia degli italiani che hanno imparato anche a difendersi. Qual è la furbizia di questa donna? Che in fondo si è scoperto poi ha lavorato tre giorni perché poi ha chiesto un congedo straordinario retribuito. Ora è di tutta evidenza che non è che questa donna prima ha accettato il lavoro, ha iniziato a lavorare e poi gli è venuto questa idea. Io credo che sia abbastanza palese che era tutto assolutamente studiato. Nulla di illecito e attenzione assolutamente lei ha sfruttato la legge, l'ha sfruttata a suo vantaggio in questo caso perché talvolta bisogna sapersi arrangiare. Probabilmente vivi in un contesto difficile, a Napoli, in campagna, dove la disoccupazione è molto alta, dove le infrastrutture sono quelle che sono, lo sappiamo. E dall'altra parte abbiamo invece questa storia di questo presunto, ormai possiamo dirlo, insomma, non c'è stato nessun arresto perché credo che ormai ci siano pochi dubbi. Semplicemente Matteo Messina Denaro aveva deciso per ragioni di salute di consegnarsi allo Stato e ce l'aveva detto in maniera molto molto chiara, Baiardo, nell'incontro avuto due mesi fa con Giletti. Ce l'aveva preannunciato esattamente spiegando le ragioni e cosa avrebbe fatto. Ma poi ci sono tantissimi indizi che portano a questo. Uno che viene arrestato, come è successo anche in passato, viene amanettato. Lui invece no. addirittura proprio si vede anche dagli atteggiamenti. Se andate a vedere i filmati non ci sono atteggiamenti ostili. Vi ricordate invece quando fu arrestato brusca, no? Voglio dire le mani dietro, con le manette, la testa spinta dentro la macchina, le mani addosso. Qui l'hanno proprio accompagnato al pulmino che poi l'ha portato alla sua destinazione. E anche qui, vedete, non è difficile immaginare cosa è successo, no? Io me lo immagino, poi per carità voi potrete dissentire, potrete criticarmi, è giusto così, basta che venga sempre fatto nella maniera corretta. Io ho fatto una mia ipotesi. Allora, partiamo appunto dal presupposto che lui avesse tutte le intenzioni di consegnarsi, per le ragioni che sappiamo, una condizione ormai molto 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 precaria. E curarsi dovendo sempre fare attenzione eccetera non è facile, probabilmente lo puoi fare solo in certe strutture e lui magari ha bisogno di altre strutture dove avrebbe rischiato molto di più di essere riconosciuto e quindi tanto valeva cercare di trovare magari un accordo con lo Stato italiano. E anche sulla cattura, che non è una cattura, lo ripeto perché ci sono gli elementi che abbiamo davanti agli occhi, anche qui mi immagino il risvolto della medaglia. È sicuro che giudici, l'intelligence, i rostri carabinieri hanno fatto in questi anni e continuano a fare un grande lavoro per quanto riguarda la mafia e per quanto riguarda altra criminalità. Questo è assolutamente lungi da me voler fare di tutta un'erba un fascio. Poi sappiamo che anche lì ci sono le corruzioni, ci sono le varie situazioni. Qui però io ci vedo una furbata. Qual è la furbata? Cioè mettetevi nei panni dello Stato italiano. Arriva Matteo Messina Denaro e dice guardate io sono disposto a consegnarmi, probabilmente sarà avvenuto in maniera un po' più così costruita qualcuno, un emissario da parte di Matteo Messina Denaro avrà avvicinato le istituzioni oppure quella parte di Stato che lo ha coperto per 30 anni e avrà detto guardate che lui è adesso nella condizione di vuole così capire che possibilità ci sono, come può essere aiutato eccetera e quindi ha deciso di consegnarsi. Come consegnarsi? Ma siamo matti consegnarsi? No, 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 no. Abbiamo fatto un grande lavoro per 30 anni eccetera. Lasciateci la soddisfazione e anche nei confronti dell'opinione pubblica di mettere giù la sceneggiata che lo arrestiamo e quindi concordiamo nei minimi particolari, non preoccupatevi, non lo umiliamo, non gli mettiamo le manette, lo trattiamo con i guanti assolutamente, poi lo portiamo a curarsi tranquillamente. Ecco io la vedo così, poi magari ripeto qualcuno potrà dirmi che sono folle, che sono complottista, io la vedo così e quindi l'analogia delle due cose, no? Il modo di essere furbi degli italiani. Noi abbiamo imparato a dover usare anche la furbizia anche nei confronti dello Stato, no? Cioè guardiamo all'estero, io ho vissuto all'estero, ci sono nato, ho vissuto, ho lavorato tanti anni in Germania, ho lavorato anche in Francia. Un tedesco non si sogna di non pagare le tasse per tutta una serie di ragioni. Uno perché ha veramente tutti i servizi che lui può richiedere, perché voi capite che se ha un problema di giustizia, ha i tempi accelerati, ha una buona giustizia. Se ha un problema sanitario non deve aspettare dei mesi come in Italia. Se deve attraversare la Germania, non capita come capita in Italia che arrivi nel sud dell'Italia, cioè hai un binario solo e ci metti magari 100 chilometri a fare due ore. O magari non ci sono le autostrade che collegano una città all'altra. Ospedali fattiscenti, scuole assolutamente da mettersi le mani nei capelli. Ed è di tutta evidenza che al contrario del tedesco ben predisposto a pagare le tasse, l'italiano si domanda, ma scusa stato. Tra l'altro mi chiedi molte più tasse di quelle che paga un tedesco, perché noi ne paghiamo molto di più e ho la metà della metà della metà dei servizi che ha un tedesco. Ma perché dovrei pagartele? Io mi ingegno e cerco a capire come fregarti, come non darti questi soldi. È chiaro che poi è il cane che si morde la coda, perché più succede questo, ancora meno fondi ha a disposizione lo Stato, però è chiaro che il primo colpevole è lo Stato che da 50 anni dimostra di non saper governare questo paese o ancora peggio di avere delle situazioni di mangeria, non so come definirla, perché anche gli stanziamenti che vengono fatti, per esempio al sud, spariscono poi di colpo, perché ritorniamo a un discorso di intreccio, ma l'affare è stato. Quindi questo è un po' uno spaccato dell'Italia, di come noi siamo, queste storie che raccontiamo, che hanno delle analogie, perché alla fine quello che c'è da dire, da sottolineare, che noi incredibilmente siamo costretti a difenderci dallo Stato, che non è lo Stato amico come dovrebbe essere, ma molto spesso si dimostra lo Stato nemico e guai, cioè ci sono guai per coloro che ad esempio anche hanno a che fare con la giustizia. Un giorno vi racconterò, adesso non ne ho voglia, un fatto personale che mi ha colpito, che mi sta colpendo, di incredibile mala giustizia, che quando ve lo racconterò voi non ci crederete, voi non ci crederete. Ogni tanto ricordatemi questa cosa che prima o poi farò questo video, perché ci sono veramente in questo paese delle cose che sono inenarrabili e che assolutamente sono incomprensibili. Ecco perché le due storie non sono così distanti l'una dall'altra, è esattamente lo spaccato di quello che noi siamo, di quello che sono gli italiani e di quello che è l'Italia. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.